Una giunta nuova per quattro quinti rispetto a quella passata, una giunta composta da soli eletti facendo riferimento a quelli che hanno preso più preferenze provenienti per tre elementi dal PD e uno a testa dalle liste civiche Forza Gualdo e Gualdo Futura. È la giunta di Gualdo Tadino presentata stamani dal sindaco rieletto Massimiliano Presciutti. Abbiamo presentato una giunta che è rinnovata per i suoi quattro quinti. Quali sono state le filosofie che sono state alla base di queste nomine? Innanzitutto il fatto che siamo una coalizione e quindi era giusto dare il giusto spazio a chi aveva contribuito a questo risultato storico per questa città. Poi io credo che noi dobbiamo dare continuità al lavoro che abbiamo fatto ma anche spinta nuova rispetto a tanti temi che abbiamo inserito nel nostro programma di governo e quindi ho cercato di tenere insieme una giusta amalgama fra quello che dobbiamo completare, quello che stiamo per finire e quello che dobbiamo iniziare da nuovo. Poi io come ho detto in conferenza stampa ho fatto delle scelte non di carattere personale cioè non è che ho avuto difficoltà con le persone. Io devo ringraziare Gloria Sabatini e Emanuele Aventuri che hanno fatto parte della mia squadra fino a pochi giorni fa che resteranno in consiglio quindi saranno parte integrante di questa squadra e credo che nel corso della legislatura potranno avere anche dei loro spazi rispetto a quello che potrà accadere anche perché il sottoscritto fra cinque anni non sarà ricandidabile quindi dovremmo lavorare per far crescere una nuova leva di classe dirigente dalla quale poi scaturiranno anche le scelte per il futuro. Ma adesso è un po' prematuro però le scelte sono state fatte su una base, su un criterio molto semplice che è quello della coalizione, della squadra e del fatto che una squadra non si compone solo di cinque assessori o di dieci consiglieri ma io ho la grande fortuna di avere anche tante persone che non sono state elette, tante persone che non sono state nemmeno candidate che hanno confermato il risultato, la loro volontà di continuare a lavorare in un gruppo, in una squadra e questa per me è la cosa più bella. Nella partita che si gioca sempre in questi casi tra chi sostiene la filosofia dei tecnici al comando e chi invece la filosofia dei scelti dalla popolazione attraverso il voto ci sembra che abbia vinto la seconda. Ma io penso non potevo fare altrimenti visto il risultato che abbiamo ottenuto. Ci sono tante figure che hanno avuto risultati importanti che rappresentano pezzi importanti di società in questa città e quindi ho ritenuto giusto che il volere dei cittadini fosse rappresentato. Quindi questo è stato non perché non ci siano figure esterne valide quanto perché il risultato ci dice che le persone che abbiamo messo in campo sono quelle che i cittadini hanno apprezzato. Ecco allora i nomi e le deleghe. Ingegnere ed insegnante, vice sindaco ed assessore lavori pubblici, manutenzione e ricostruzione, è l'unico veterano del gruppo Fabio Pasquarelli, candidato nelle file del PD. Fabio Pasquarelli è l'unico assessore riconfermato in questo secondo mandato, quindi anche la responsabilità in qualche modo di riannodare i fili tra la nuova amministrazione e quella vecchia. Manutenzioni, lavori pubblici, da dove partiamo? Sicuramente partiamo dai progetti che erano stati messi in cantiere con la vecchia amministrazione. Come abbiamo detto in campagna elettorale ci sono alcuni lavori che partiranno a breve, mi riferisco all'ascensore, a Piazza Mazzini, le scuole elementari, le scuole di Cartiere, la Tittarelli, quindi questi sono i progetti in stato avanzato di realizzazione e quindi nei prossimi mesi vedranno la luce e quindi i lavori stessi. E poi con le manutenzioni facciamo quello che abbiamo sempre fatto, lo stiamo facendo. Questi giorni se qualcuno gira la città la macchina dell'asfalto continua, abbiamo diversi lavori in corso e quindi su queste cose ci sarà continuità. Aspetta a me chiaramente riannodare un po' le file di dove eravamo arrivati sui vari aspetti, però siamo una squadra veramente competente, credo, quindi sarà un lavoro difficile ma credo anche fruttuoso. Ecco, abbiamo citato i lavori delle scuole perché sono quelli imminenti, l'anno scolastico ora termina, a settembre si ricomincia, presumibilmente quei plessi scolastici dovranno, insomma avete organizzato una logistica immaginiamo per loro. Sì, si stava pensando di trasferire le scuole di Cartiere nei capuccini e quindi fare i lavori in maniera progressiva prima le scuole di Cartiere e poi la Tittarelli per poter utilizzare al meglio le strutture che ci sono, senza, diciamo, né inconvenienti e disagi per i ragazzi e le famiglie. New Entry, proveniente sempre dalla lista PD e Marco Parlanti, già consigliere comunale, medico veterinario, a cui vanno le deleghe di bilancio personale, benessere animale e frazioni. Le priorità sono quelle, diciamo, dettate dal bilancio. Noi, diciamo, abbiamo un progetto condiviso, condiviso da tutti. Abbiamo un gruppo, un gruppo unito e coeso e quindi la nostra stella polare sarà il programma, quello che abbiamo detto durante la campagna elettorale e per cui i cittadini ci hanno dato fiducia. Naturalmente le mie deleghe sono delle deleghe in gran parte molto tecniche, no? E quindi, diciamo, tra virgolette poco di rappresentanza rispetto magari a deleghe come la cultura o il sociale, eccetera, eccetera. Però sono deleghe molto importanti perché basta pensare al bilancio e l'importanza che hanno i bilanci diciamo e le difficoltà che hanno molti comuni a chiudere i bilanci sani. Io vengo già da un'esperienza amministrativa e tra altre cose ero anche membro della commissione bilancio, quindi diciamo un argomento che ho imparato a conoscere e quindi anche ad apprezzare. Per fortuna abbiamo anche dei funzionari molto bravi e capaci con i quali, diciamo, collaboreremo in maniera proficua. Ne si troverà anche a riorganizzare la macchina comunale perché ci sono pensionamenti in vista, insomma, forse sarà la prima cosa su cui dovrà lavorare. Lì insieme alla Giunta, insieme al Sindaco cercheremo di capire quali saranno le aree su cui investire, i settori su cui investire, delle idee ce le abbiamo però ce le teniamo e poi vedremo, vedrete in futuro. Sempre dalla lista PD, nuovo volto della Giunta Presciutti è Barbara Bucari, dipendente di un'azienda di servizi che assume le deleghe di welfare, scuola, cultura e turismo. Da dove si parte? La domanda è abbastanza complicata e dare una risposta così nell'immediato subito ancora devo prendere possesso della situazione e vedere le azioni che sono state fatte finora. Sicuramente posso esprimere oggi una mia opinione su quelle che saranno le mie priorità. Ovviamente questo è un territorio, ne abbiamo parlato diverse volte anche in campagna elettorale, nel quale ci sono tante necessità. Io chiederò a questa Giunta di lavorare in forma coordinata tra tutti gli assessorati in modo da avere degli obiettivi che siano il più condivisi possibili, non lavorare per compartimenti stagni e quindi anche le azioni che verranno fatte sulle varie aree sociale, turismo, cultura e scuola avranno dei punti in comune. Questa è la mia idea, il mio progetto. Ora non mi sento magari di fare ad oggi, siamo freschissimi, abbiamo avuto le deleghe ieri, dobbiamo capire bene la situazione, però la mia intenzione è quella di connettere, cioè trovare delle connessioni utili in ogni settore e comincerò sicuramente perché gli impegni anche cittadini per l'estate vanno nella direzione della cultura, comunque dell'organizzazione di quelli che saranno gli eventi estivi. Non farò solo questo, comincerò anche nella programmazione di quello che sarà poi il nuovo anno scolastico e per quanto riguarda i servizi sociali che diciamo è un settore più complesso, ho intenzione di affidarmi molto ai tecnici comunali in questa prima fase per capire bene la situazione e vedere anche a livello di ambito quali sono gli obiettivi da portare avanti insieme con gli altri comuni. Dalla lista di Forza Gualdo l'insegnante Maria Paola Gramaccia che assume la delega già avuta all'epoca della giunta di centrodestra Roberto Morroni, ovvero l'ambiente a cui aggiunge urbanistica e politiche energetiche. Quali sono le priorità che questa amministrazione si dà su questi argomenti? Sono quelli che sono già stati inseriti nel programma e sulla quale gli elettori ci hanno dato il conforto del voto. Quindi prima di tutto la vicenda del risanamento della Rocchetta, la questione comunanza con la quale dovremo in qualche modo trovare una soluzione perché è assurdo che una città sia ferma o per motivi a favore o contrari, però è assurdo che tante iniziative che si potrebbero spendere sul territorio siano in questo momento bloccate. Il terzo aspetto non per minore importanza è la questione essa, quindi si va incontro a un periodo dove si parte con la gestione unica dei rifiuti, quindi capire un attimo in quale modo l'azienda che per tanti anni è stata protagonista nel nostro territorio possa avere un ruolo che non sia soltanto subalterno ma in qualche modo possa tornare ad essere una parte importante e attiva. Dalla lista a Gualdo Futura Stefano Franceschini, pubblico impiegato, volto dell'associazionismo che ricopre il ruolo di assessore allo sviluppo economico, commercio, artigianato, agenda digitale, trasporti e sport. Si parte dallo stato dell'arte, cioè parlando con gli uffici e vedendo com'è la situazione. Ci sono già delle prime mosse che si possono fare in maniera molto semplice e veloce perché bisognerebbe subito fare un efficientamento della macchina comunale per far risparmiare tempo all'imprenditoria, agli artigiani e a chi ha bisogno. bisogna analizzare bene anche il discorso delle tasse sul commercio eccetera perché se ci fosse qualche possibilità di sgravio e la terza iniziare subito con la promozione di prodotti tipici e di valori aggiunti quali l'olio, la ceramica, l'acqua eccetera perché credo che noi abbiamo dei prodotti da valorizzare. In una città che ha fame di lavoro avere il tema dello sviluppo economico è certamente gravoso. Da dove si inizia lì? È abbastanza complicato. Si inizia io credo intercettando l'unico punto di finanziamento che sono i bandi europei. Bisogna iniziare subito all'interno del comune con un gruppo di ragazzi che hanno voglia ad intercettare i bandi perché nel momento in cui si viene a conoscenza già è troppo tardi. quindi bisogna avere i progetti pronti nel momento in cui viene fuori il bando mandarli subito in giro. Abbiamo visto ultimamente con il CONI per quanto riguarda l'antistadio che col progetto pronto diciamo che siamo quasi arrivati al risultato. Il primo consiglio comunale è convocato per sabato 15 giugno alle ore 10 con il giuramento del sindaco e l'elezione dell'ufficio di presidenza. Il primo consiglio comunale è convocato per sabato 15 giugno alle ore 10 con il giuramento